Ciao ragazze, oggi vi mostrerò come modificare delle scarpe con dei semplici glitterini presi dal cinese, eccoli qui, poi un paio di forbici, una pinzettina, uno stuzzicadenti, una colla, possibilmente sceglietelo ovviamente del materiale della vostra scarpa, un foglio di giornale e una scarpa, io ho scelto questa perché diciamolo distrutta di una festa, vabbè lasciamo stare, e la trasformeremo da così a così. Se vi piace l'effetto seguite il tutorial, avremo la vostra colla, appoggiamo il tavolo, prendiamo i glitter, e iniziamo con la colla, e facciamo una striscia alla volta. Se ne mettete troppa, con lo stuzzicadenti la stendete più uniformemente. Ecco qua, allora, andiamo, questi qui sono già ad esilie tutti azzeccati, facciamo una strisciolina, e lo attacchiamo. Ragazzi, mi raccomando, se volete fare questa cosa, ci vuole molta imprese, molta pazienza. vincolari delle dito. Ok. Facciamo l'altra strada. great. Ok. Premiamo, premiamo, se non si attaccano bene andiamo con la pinzetta e continuiamo così. Ok. e lo azzecchiamo 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 devo dire, se non trovate questi qui già attaccati trovate ad esempio questi ovviamente li dovete attaccare uno per uno mi raccomando fate attenzione ai filini della colla e poi mi raccomando ragazze anche per me la prima volta prendete appunto un paio di scarpe che comunque non mettevate più, comunque rovinate almeno se fate un pasticcio non avete problemi a buttarle dentro i buchi con un po' di colla mi raccomando ragazze tenete la finestra aperta mi raccomando un po' di queste cose ecco qui ecco qui finita passate tutte insieme e adesso ve le faccio vedere indossate che non mi raccomando un po' di queste cose che mi raccomando un po' di queste cose che non mi raccomando un po' di queste cose attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.